E' vero o non è vero che chi muore con Cristo risorge con Cristo? Che chi muore con l'amore di Dio nel cuore risorge con l'amore di Dio nel cuore? Tutto viene per il bene di coloro che desiderano l'amore, che vogliono veramente il cielo, la vita eterna, che sanno ciò per cui vale la pena vivere, che è lasciarsi amare da Dio, accogliere la vita e amare. E il Signore quanto va amato a voi, dalla salita del Galileo alla chiesa dei casi bruciati. Ma quanto va amato? Quanto ha provveduto? Quanto è stato provvidenza sulle vostre preoccupazioni, le vostre ansie, le vostre paure, le vostre difficoltà? Quanto? Il Signore va chiamato alla vita prima e poi alla bellezza della vita cristiana e non si è sbagliato. E non si sbaglia, vi ha dato tutto, tutto. Lui vi porterà. Lui vi sosterrà. Loro non sono i supereroi che ce l'hanno fatta o ce la faranno, perché Giacomo e Lucia, per chi li conosce bene, sanno che sono fragili come me e come te. È Dio che l'ha portati fino ad oggi, è Gesù Cristo che li porterà ancora. Questo amore, questa bellezza è anche per te. Perché nella vita non conta chi sei, conta con chi sei.